La serapia, specie nelle forme racchitiche tendente alla regressione spontanea e conservativa. Nelle altre forme chirurgica. Le tecniche osteotomiche più praticate sono l'osteotomia intertrochanterica di abiluzione con le forme a base laterale, secondo Pavlix. L'osteotomia intertrochanterica di abiluzione con l'amaplaca, secondo Müller. L'osteotomia intertrochanterica transversale e lineare. L'osteotomia intertrochanterica lineare oblicua, secondo Piedt e Nechem. L'osteotomia oblicua trochanterica di McKevins e Schantz. Il trasferimento in senso disto laterale del gran trochanteria con l'osteotomia lineare. Trasferimento in senso disto laterale del gran trochanteria con l'osteotomia baggizzante e cuneo di sottrazione. La doppia ostotomia di Valle. L'osteotomia intertrochanterica da